Sospeso lo scuolabus per gli studenti di Pedalino in monta la protesta, non dei genitori ma del PD della frazione. Da qualche giorno, lamentano Daniele Montevergine, consigliere comunale, e Ghetano Scollo, responsabile del PD Pedalino, il servizio è stato sospeso e si stanno registrando diversi disagi tra le famiglie, costrette tra tante difficoltà ad organizzarsi per sopperire all'assenza del servizio. I due esponenti del PD chiedono all'amministrazione il ripristino dello scuolabus e di provvedere a restituire alle famiglie le somme versate per i giorni in cui il pulmino non è passato. Immediata la replica della giunta, il pulmino, assicurano dal palazzo di città, è temporaneamente in riparazione per un guassinofficina, già da domani o al più tardi lunedì prossimo verrà riparato. Quanti rimborsi qui squili e l'intero importo dell'abbonamento per un anno è all'incirca di 20 euro a bambino per una settimana di interruzione del servizio, il rimborso non potrebbe essere che inferiore ad un euro.